Sì, grazie Presidente. Il mio intervento per significare all'Aula la nostra contrarietà a questa mozione. Abbiamo sentito anche noi il territorio e a quanto ci risulta è stato fatto un sopralluogo da parte della Commissione Patrimonio del Sesto Municipio in cui, a ben vedere, la realtà di fatto che ci è stata rappresentata è molto differente da quella che è stata invece detta qui oggi in Aula, ovvero che i lavori sarebbero, così come ormai da più anni, almeno dal 2014, a metà della loro realizzazione, ci risulta che il Consorzio per di più non abbia presentato una pluralità di bilanci a questa amministrazione e quanto ci risulta ad oggi, come è stato detto, come è stato rappresentato, questo centro polifunzionale è soggetto a una problematica di occupazioni abusive che si vorrebbero, in un certo modo, scaricare sull'amministrazione tramite la presa in carico di questo immobile. Ad oggi noi significiamo il nostro no e spengeremo per la messa a bando del immobile. Grazie.